benvenuti a Mappamundi vedete qui subito Fabrizio Maronta ciao Fabrizio ciao Alfonso buonasera a tutti allora questa è la settimana del G7 del vertice della Nato la guerra in Ucraina ovviamente in primo piano e con te Fabrizio oggi partiamo proprio dal G7 quindi affrontiamo un po' la guerra dal punto di vista economico e a questo G7 si si è discusso molto no del tetto da mettere sul petrolio russo tetto al prezzo da mettere sul petrolio russo addirittura sul gas insomma si discute altre sanzioni economiche quindi questo G7 insomma ancora una volta anzi più di di altre volte è diventato rilevante per appunto la parte economica della guerra in Ucraina sì la parte economica ma direi non solo il G7 è un un organismo che raccoglie le principali economie per prodotto interno lordo eh tra cui eh tra cui gli Stati Uniti ma e questo è importante sottolinearlo non c'è la Cina quindi è una sorta di eh come dire club delle economie principali ma occidentali in senso lato del termine c'è ci sono gli Stati Uniti c'è il Canada la Francia la Germania eh c'è il Giappone c'è l'Italia c'è il Regno Unito eh nel formato G8 c'era anche la Russia che adesso chiaramente per ragioni che mi sembrano fin troppo ovvie non c'è quindi è in realtà la guerra in Georgia addirittura se non sbaglio no? Certamente certamente e tanto meno potrebbe esserci adesso e quindi è eh sì un ehm diciamo una ehm un consesso di economie rilevanti ma è soprattutto un consesso occidentale e quindi conseguentemente è l'ambito in cui ulteriore rispetto alla Nato ma diverso rispetto alla Nato perché non prettamente militare in cui gli Stati Uniti possono provare a imporre o comunque eh una linea o comunque a tessere una eh come dire una trama eh diplomatica che poi porti a posizioni comuni. Allora io ho fatto già vedere una foto no dei rappresentanti tu hai detto tutti i membri vedete ci sono anche i vertici dell'Unione Europea Commissione Consiglio. Ovviamente vedete anche una cosa rilevante di questo eh dunque il formato G7 e anche G8 quando c'era la Russia prevedeva sempre o quasi sempre negli ultimi anni anche degli invitati ehm all'atere che non fanno parte prettamente del del G7 come paesi insomma aggiunti. Questo fa parte in realtà di una politica di come dire relazioni chiamiamole così di buon vicinato in senso lato tradizionalmente. La cosa interessante è che questo eh a questo G7 sono stati invitati paesi particolarmente rilevanti eh in questo momento che ci danno la misura anche delle difficoltà che in prospettiva qualsiasi politica di ulteriore sanzione alla Russia può incontrare. C'è l'India c'era era stata invitata l'India eh che è il paese che più eh ha eh preso ad acquistare eh il petrolio in parte anche il gas russi da quando eh la la Russia è sotto embargo. C'è l'Indonesia che è un altro grandissimo importatore di eh di trocarburi. Eh ci sono paesi come l'Argentina e il Sudafrica che come sappiamo si sono smarcati in sede ONU dalla dalla votazione contro eh il l'aggressione russa di fatto fondamentalmente astenendosi. C'è un paese come il Senegal che è tra i paesi che ehm rischia di eh subire maggiormente la crisi eh alimentare indotta come sappiamo dall'ammanco di cereali sul mercato. Quindi insomma in generale eh anche gli invitati non prettamente cioè gli invitati eh appunto eh opzionali eh diciamo così cioè i paesi non propriamente del G7 che erano stati invitati a questo summit eh danno un po' la fotografia del momento attuale. Sì sì allora tu hai ricordato mh perché insomma diciamo l'LG7 era un po' uno strumento no del secolo scorso era andato un po' fuori di moda perché appunto immaginiamo presenza di Canada Italia in particolare con la crescita delle potenze economica cinese, indiana eccetera in questi ultimi anni e no il G20 ha guadagnato rilevanza almeno mediatica direi e proprio sul G20 tra l'altro c'è questa polemica in corso no? Si terrà a novembre in Indonesia eccetera appunto la polemica sul fatto se Putin parteciperà o meno di persona in videoconferenza insomma c'è tempo però per un effetto della guerra ducana che ha fatto tornare di rilevo almeno mediatico appunto il G7 che sembrava un po' Sì mediatico ma direi anche diplomatico perché appunto come dicevamo prima il fatto è che queste formule di incontro eh internazionale che vogliono in qualche modo istituzionalizzare ehm con ricorrenze assiduità eh l'incontro il confronto tra paesi particolarmente rilevanti sullo scacchiere geopolitico mondiale eh sono delle formule che risentono chiaramente dei tempi. Ora il G20 l'idea del G20 che poi ricorderete era una sorta di G2 allargato perché c'è stato un momento in cui si eh più che altro diciamo si fantasticava di un G2 cioè di una sorta di direttorio sino statunitense quindi due paesi dei due motori primi di questa globalizzazione quando le relazioni tra due erano nettamente migliori ovviamente quindi stiamo parlando di ormai più di dieci anni fa ehm e poi con l'aggiunta di questo zero quella era un po' la formula mediatica diciamo così eh si si era in realtà allargato molto questo questo consesso presenti sempreci nei Stati Uniti ma allargato a tutti quei paesi sudest asiatico eh America Latina Africa che non potevano essere lasciati fuori dato per l'appunto il carattere più eh distribuito o multipolare come si usa dire eh con formula che non mi piace particolarmente ma tanto per capirci del dell'ordine mondiale scaturito dalla o del disordine mondiale meglio scaturito dalla fine dell'Unione Sovietica in realtà una formula come il G20 in questa fase che sarebbe assolutamente auspicabile se ci fosse una sorta di non dico unità di intenti ma quantomeno di minimo comune denominatore rispetto a quanto sta avvenendo in Ucraina e in prospettiva potrebbe venire altrove Taiwan e non solo eh in realtà è una formula che eh rischia di avere poco senso in un momento come questo in in cui questi vertici hanno ripreso ad essere dei forum ehm diciamo di confronto tra eh paesi in qualche modo affini strategicamente eh rispetto alla eh alla posizione da tenere eh sulla guerra in corso non è un caso che infatti eh Zelensky sia eh presidente eh ucraino sia intervenuto in videoconferenza al G7 ovviamente l'Ucraina non era e non sarà un paese del G7 perché quello appunto è un criterio economico che l'Ucraina non potrebbe mai e poi mai eh centrare ma eh è intervenuto e al G7 si è discusso anche direi soprattutto di quello che dicevi tu cioè fondamentalmente di sanzione alla Russia con l'obiettivo di formare una sorta di cartello degli acquirenti se vogliamo dirla tecnicamente un oligopsonio cioè il contrario dell'oligopolio l'oligopolio è il cartello di chi vende l'oligopolio è di chi compra per fare in modo di mettersi d'accordo sul pagare il gas o meglio innanzitutto il petrolio in prospettiva addirittura il gas a un prezzo stabilito non troppo alto stiamo parlando chiaramente di petrolio e gas russi affinché la Russia non possa continuare a guadagnare così tanto dall'export perché il problema fondamentale in parte generato anche dalle sanzioni come effetto collaterale è che eh i prezzi dell'energia sono saliti molto e quindi le restrizioni quantitative all'export russo che poi sono state anche ulteriormente esacerbate dalla scelta russa di eh ridurre le esportazioni da parte sua da ultimo Italia Germania eh sono state compensate da un aumento dei prezzi quindi fondamentalmente la Russia esporta di meno ma guadagna lo stesso anzi addirittura di più perché paghiamo di più e quindi l'idea è di creare il cartello dei paesi compratori però certo il fatto che sia stata invitata l'India il fatto che sia stata invitata l'Indonesia cioè dà proprio il senso di come i paesi occidentali da soli non riescano anche se fossero d'accordo su questo non potrebbero costituire un cartello sufficiente a eh fare in modo che eh la Russia ehm abbia molto meno molti meno introità a questo export perché la Russia troverebbe scappatoie a cominciare dall'India da qui la necessità di invitare questi paesi che però vediamo continuano a essere piuttosto eh diciamo poco propensi per usare un eufemismo ad allinearsi all'Occidente. Il peso massimo del G7 sono gli Stati Uniti che però da questo punto di vista non è che facciano molto la differenza perché gli Stati Uniti non erano nemmeno prima della guerra grandi importatori di idrocarburi russi quindi il fatto che loro il Canada idem eh dicano importiamo poco eh diciamo dalla dalla Russia non cambia niente. Lì fondamentalmente il gioco è per gli Stati Uniti per gli Stati Uniti e il Regno Unito direi eh convincere eh convincere gli gli europei. Sì anche perché appunto tra l'altro qui mostro questa foto in bianco segnalo un Boris Johnson particolarmente sfumeggiante insomma leggerete poi nelle cronache insomma varie cose che sta facendo ma eh per stare a noi invece sull'analisi anche perché poi il Regno Unito appunto gli Stati Stati Uniti sono produttori quindi sono anche hanno i loro interessi anche nella sul mercato del petrolio quindi e andiamo agli europei cioè ricordiamo il G7 si teniva tra l'altro in Germania e poi si sposteranno per il vertice a Madrid della Nato e della Nato un altro vertice cruciale molto attento che poi parleremo nei prossimi giorni ma il ma quindi parliamo un po' degli europei continentali no? Quindi Germania, Italia. Eh sì quello che è successo il G7 è un po' se vuoi la replica su scala transatlantica di quello che è successo prima in sede europea cioè con il G7 gli Stati Uniti con questo G7 gli Stati Uniti hanno provato a buttare il loro peso negoziale sul tavolo per fondamentalmente mettere d'accordo gli europei che ripeto sono la quantità eh discreta in tutta questa faccenda cioè quelli che possono fare la differenza nel eh determinare o meno la possibilità di eh imporre di fatto alla Russia un prezzo molto più basso per gas e petrolio perché sono quelli che ne comprano di più tradizionalmente ma per quanto riguarda il gas ancora e questo perché nei negoziati a Bruxelles nel vertice di pochi pochi giorni fa era andata in scena il fallimento di questo tentativo lì quello che era successo è che fondamentalmente la Francia forte del suo nucleare che le consente di essere eh di essere già in partenza meno dipendente dal dal gas e dal petrolio russi e l'Italia eh che con il governo di Mario Draghi sta esprimendo un filoatlantismo particolarmente diciamo intenso hanno cercato in tutti i modi eh avendo dietro tra l'altro anche altri paesi tra cui per esempio la Spagna di eh far passare una linea europea unica anche in previsione per l'appunto del G7 quindi arrivare al G7 con un accordo di massima in sede già europea eh per il cosiddetto price cap cioè per il tetto massimo da imporre eh si è parlato di petrolio ma a Bruxelles si è parlato anche di gas ovviamente il fatto è che non ci sono riusciti non ci sono riusciti perché perché l'opposizione eh allora qui fondamentalmente è successo che in realtà l'opposizione principale è stata espressa dall'Olanda e da altri paesi tradizionalmente come per esempio eh la Finlandia tradizionalmente falchi dal punto di vista fiscale perché perché questi paesi temono che una misura come questa di coordinamento degli acquisti sul mercato diciamo così strategico come quello energetico sia un ulteriore passo in linea con il recovery plan del eh post pandemia economia poi il repoweri io adesso c'è il piano di affrancamento dalle fonti fossili anche soprattutto russe sia un ulteriore passo verso una sorta di eh federalizzazione economico fiscale che quindi renda permanenti queste misure che invece questi paesi vedono come il fumo negli occhi e vogliano che vogliono continuano a dire di 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 voler solamente temporanei e ma lì il il silenzio assordante a Bruxelles era stato quello di Olaf Scholz cioè del eh cancelliere tedesco che di fatto si è trincerato dietro il no perentorio dei dei falchi medio piccoli a cominciare per l'appunto dall'Olanda per di fatto scegliere di non scegliere cioè facendo come dire il il pesce in barile eh accodandosi a questa posizione che di fatto è anche la posizione della Germania. Questo ha messo in rotta di collisione eh Francia e Italia con questi paesi ma ha creato anche fortissimi attriti adesso ah nel nel vertice G7 eh tedesco tra gli Stati Uniti e questi paesi che eh perché gli Stati Uniti per l'appunto vogliono che invece l'Europa sia in qualche modo unita con loro con Washington nel eh imporre la sanzione energetica ricordiamo tanto per essere chiari che le tre i tre grandi ambiti ehm di di sanzioni alla Russia sono quelle prettamente finanziarie cioè eh l'esclusione dallo SWIFT dal sistema di pagamenti interbancari e il blocco delle riserve eh della banca centrale russa detenuti eh detenuti all'estero cioè non nei cavo quindi della Russia comunque non nel diretto controllo della Russia poi eh le sanzioni di natura economico commerciale in parte anche volontarie ma in molta parte secondaria cioè aziende che per paura di essere sanzionate dagli Stati Uniti eh non non fanno più affare con la Russia e poi ci sarebbe il capitolo più scottante che è quello energetico ecco G7 ma anche il vertice di Bruxelles prima riguardano proprio questo e questo è lo scoglio chiaramente di gran lunga maggiore beh insomma la questione è che il peso economico di della guerra delle sanzioni in particolare eh sulle spalle di noi europei sostanzialmente quindi il tema che si pone è che detto che la strategia russa sembra essere quella di puntare no nel lungo periodo a me a parte queste ultime vicende poi parleremo anche della guerra in altre trasmissioni ma insomma questo di agotizzarsi anche probabilmente legato proprio al vertice della Nato insomma dove sicuramente Putin vuole far sentire la sua voce anche dal campo ucraino ovviamente però a parte questo l'idea è che la alla Russia il fattore tempo sia vantaggioso cioè nel senso che eh le sanzioni stanno avendo un effetto molto lento adesso io direi sì e no del default tecnico della Russia eccetera però insomma discorso è chi regge chi potrà reggere di più nei europei perché la riduzione c'è stata la riduzione dell'esportazione di gas la sostituzione con altri fornitori rispetto ai russi ci vorranno anni per sostituire completamente il gas russo in particolare insomma c'è il rischio che per il prossimo inverno il prossimo attunno non riusciamo a stoccare una quantità di gas sufficiente al nostro bisogno quindi gli europei andranno oltre alle difficoltà economiche per lamento dei prezzi anche a un rischio razionamento dell'energia forse prima che la Russia e in particolare la Russia profonda subisca gli effetti delle sanzioni a questo un effetto sul governo russo che ne che ne dici questi temi cioè gli europei sono in grado di reggere? Allora eh in realtà la risposta in questo caso sta proprio sul campo di battaglia ucraino nel senso che la scommessa della Russia come tu giustamente dici è fondamentalmente quella di farci desistere dal sostenere l'Ucraina e quando dico farci dico sicuramente gli europei ma in parte anche gli Stati Uniti che come le cui classi medie stanno comunque soffrendo eh l'inflazione un'inflazione quasi a due cifre ormai negli Stati Uniti e peraltro in un momento di divisione politica tremenda che è tornata pienamente alla luce con la sentenza della Corte Suprema sull'aborto che può sembrare qualcosa di completamente diverso ma si inserisce nell'ambito fondamentalmente di un sistema politico tendenzialmente disfunzionale come quello statunitense attuale e di una divisione anche sociale estremamente forte che quindi rende il paese più eh meno in grado di sopportare eh con un spirito di unità nazionale di sacrificio eh sì quello che noi abbiamo definito il malessere americano del del proprio terrore di vita eh per una guerra che tra l'altro anzi segnalo le varie puntate che abbiamo fatto dopo l'assalto al congresso appunto sul malessere americano sulle differenze interne che appunto la sentenza sull'aborto ha portato ancora una volta in primo piano la scommessa invece occidentale ma direi soprattutto statunitense è quella di fare in modo che la Russia arrivi militarmente stremata prima che gli effetti eh negativi in termini inflattivi e soprattutto eh energetici per quanto riguarda l'Europa eh siano tali da eh provocare la rottura del fronte interno occidentale diciamo così. Ora eh perché dico che si gioca in Ucraina? Perché allora sicuramente se la guerra si dovesse prolungare con una fase così intensa come quella attuale che è estremamente intensa. Eh fino all'autunno e anche oltre a quel punto sicuramente l'Europa avrebbe dei problemi energetici assolutamente non indifferenti perché lo dicevi prima tu facevi vicino agli stoccaggi questo è il periodo anzi di fatto questo caldo eh così eh anticipato che abbiamo avuto quest'anno ha anche accorciato il periodo di grazia che è quello tra la fine dell'inverno dei rigori invernali del freddo invernale e l'avvento del caldo estivo in cui gli europei eh vedono calare il loro consumo energetico e quindi i prezzi del gas che rispondono con il mercato spot alla domanda e l'offerta del diciamo mensile e quindi usano la primavera per eh rifare scorte. Queste scorte e in questo momento è impossibile rifarle nella misura normale solita un po' perché i prezzi sono altissimi un po' anche perché eh la Russia ha comunque volutamente tagliato ridotto diciamo i flussi e quindi chiaramente reso più difficile questo. Dove sta la eh come dire il dove si decide questa scommessa se quindi appunto come dicevi tu fondamentalmente duriamo più noi eh o più la Russia in questa sorta di gioco al a chi eh salta eh a chi svolta prima eh o meglio a chi svolta per ultimo prima del burrone eh la risposta sta eh in cosa gli ucraini eh riusciranno a fare in termini di difesa e eventualmente di contrattacco nei mesi estivi che sono quelli anche più propizi in questo caso al combattimento perché perché ehm a breve e quando dico a breve dico nell'arco di due tre settimane comunque non oltre o un mese dovrebbero essere pronte a combattere le brigate ucraine che sono state dotate degli armamenti pesanti che soprattutto Stati Uniti, Regno Unito, Svezia eh hanno eh armamenti pesanti occidentali in questo caso e quindi non stiamo parlando di ciò che fino ad essere arrivato da paesi dell'est che erano residuati i sovieti, stiamo parlando di armamenti estremamente sofisticati e potenti, verosimilmente più di quelli russi eh che sono stati appunto eh donati in questi ultimi eh dati diciamo in queste ultime settimane e che però hanno richiesto l'addestramento degli ucraini. Gli ucraini stanno per essere ehm diciamo messi in grado sul campo di battaglia di usarli. L'intel, le intelligence occidentali specialmente quelle anglosassoni che fino adesso comunque ci hanno visto piuttosto bene bisogna dire mh reputano che la Russia sia ormai al limite della propria capacità di combattimento e che se dovesse subire una controoffensiva massiccia con i mezzi e gli uomini di cui abbiamo detto adesso finirebbe per riperdere il terreno conquistato e a questo punto dovrebbe tra l'altro Putin decidere eventualmente la coscrizione obbligatoria di soldati di etnia russa il che farebbe fare un salto anche di qualità diciamo così eh alla percezione della guerra in Russia e quindi fondamentalmente la scommessa statunitense e quello che gli statunitensi dicono agli europei è tenete duro mettete più sanzioni possibili adesso anche energetiche quindi price cap e tutto quanto perché noi faremo di tutto affinché gli ucraini di fatto surclastino militarmente i russi da qui al alla fine dell'estate diciamo a settembre certo è che è una scommessa estremamente infatti è una scommessa perché anche molti europei non vogliono la speranza anche diciamo ovviamente occidentale perché adesso la grande questione sul campo poi ovviamente dedicheremo altre puntate la questione sul campo e se gli ucraini avranno gli uomini ancora in grado di reggere il conflitto perché si pone un problema non tanto più di mezzi quanto di uomini ucraini visto che ormai sono quattro uomini ultimi marini certo certo lasciami però dire che eh in nella fase della guerra che si sta per aprire che i russi in realtà hanno già aperto perché i russi adesso stanno sfondando nel Donbass e nell'est in generale soprattutto grazie all'artiglieria pesante e che gli ucraini stanno per aprire adesso con l'uso dell'artiglieria pesante fornita agli occidentali il rapporto tra uomini e armamenti diminuisce perché bastano due persone tre persone a magari far funzionare a manovrare eh un non so una postazione lanciarazzi che magari lancia vedremo le prossime settimane però chiaramente quel problema lì ci sta certo sì sì vedremo le prossime settimane adesso proprio in questi giorni comunque i russi stanno completando no la conquista del Donbass ora la questione se eh appunto ci sarà una nuova linea di resistenza ucraina quanto sarà forte se saranno in grado di fare la controoffensiva anche perché appunto come ricordavi tu qui abbiamo dei tempi un po' diversi no? I tempi dell'economia del petrolio e del gas eh vedono eh i mesi invernali come quelli più difficili però sul campo le attività militari sono più facili ovviamente l'estate soprattutto in in quei luoghi mentre invece in autunno e inverno ci sarà il generale inverno che renderà tutto molto più difficile ma in realtà in quei luoghi il problema grosso scusami in realtà in quei luoghi il problema grosso sono le mezze stagioni che esistono ancora e che se ne dica perché eh sono la primavera e la stagione del disgelo il l'autunno quella piovosa comunque anche lì e quindi eh diciamo quei suoli le le famose terre nere del del centro est europeo cioè terreni estremamente fertili e estremamente ricchi insomma di eh dal punto di vista agricolo eh diventano delle dei pantani inestricabili ed è questo tra l'altro quello che ha anche eh fregato scusa il termine i russi eh i quali pensavano appunto al al blitzkrieg eh al blitz appunto pre pre ehm a febbraio pensavano al blitz pre alla guerra lampo pre ehm primaverile non ce l'hanno fatta e quindi abbiamo visto tutte le immagini dei ehm carri armati russi impantanati e tutto quanto ecco questo ha facilitato gli ucraini eh in prospettiva potrebbe facilitarli nuovamente se si arrivasse all'autunno con i russi nuovamente sovraesposti su una linea troppo lunga da da tenere e questo è quello su cui scommettono appunto eh americani inglesi polacchi baltici svedesi e gli ucraini stessi grazie a questo punto al agli armamenti che stanno per entrare in linea eh forniti dagli occidentali che vedremo eh all'opera sul fronte alla parte ucraina nelle prossime settimane. Vedremo. Vedremo. E su questo quindi si gioca fondamentalmente la eh il tentativo soprattutto anglo statunitense di forzare gli europei a imporre sanzioni draconiane adesso per come dire raggiungere una massima pressione nei prossimi due tre mesi militare economico finanziaria per portare la Russia alla capitolazione che poi vorrebbe dire anche qui poi su capitolazione bisogna intendersi perché se lo dice un polacco ti dirà che è resa incondizionata se lo dici magari un francese o un italiano ti dirà qualcosa un po' diversa ma fondamentalmente la Russia di andare al tavolo delle trattative per negoziare davvero. Infatti vedremo vedremo. E allora Fabrizio grazie io vi ricordo sempre il sito di Limes dove trovate appunto analisi eh tutti i giorni sia sulla guerra sia su quello che sta succedendo anche sul vertice appunto della Nato ma anche sul canale torneremo con le prossime trasmissioni. Fabrizio allora ancora grazie e insomma alla prossima. Grazie a te e grazie a voi tutti. Alla prossima.